Un'altra vittoria a Casalinga per la Fiorentina Basket contro Golfo Basket Piombino, prossima trasferta Milano che oggi ha vinto, chi vince la prossima partita va a secondo da solo in classifica. A me non piacciono queste proiezioni anche perché l'ultima volta che le abbiamo fatte abbiamo preso un sonoro sciaffone a Omegna. Noi facciamo il nostro campionato, sappiamo che abbiamo un gruppo di giovani che deve crescere, che a volte è un po' alterno e dobbiamo acquistare continuità. Come si vede anche nell'arco delle partite facciamo dei flash molto belli, poi dei down preoccupanti. Squadre come Milano, come Pavia, come ho sempre detto Varese che crescerà, sono squadre esperte che alla lunga possono veramente fare la differenza anche di classifica. Noi non pensiamo alla classifica, pensiamo a migliorare e a toglierci soddisfazioni come quella di stasera perché Piombino è una squadra particolarmente ostica dal punto di vista atletico per noi, con tanti mismatch dove eravamo in crisi e se visto il primo tempo tanti uno contro uno subiti, li dobbiamo migliorare. Elemento positivo o elemento negativo di questa partita? No, come ti dicevo, noi dobbiamo essere più presenti al rimbalzo e tenere più l'uno contro uno, è un po' quello che strutturalmente è un po' il difetto di fabbrica di questa squadra che ha tanti altri pregi e dobbiamo lavorare per migliorare, per sopperire a questi difetti e esaltare le nostre qualità. Però la cosa buona è che per 40 minuti abbiamo giocato con grande durezza sia fisica che mentale, nel primo tempo un po' penalizzati dai falli, il bonus trovo molto presto, secondo tempo è venuta fuori la nostra difesa bella solida.